il 68 laurea e la vuoi mettere sopra al cammino che stai a mettere a rindo cammino dottor non fa male il petto che stai infarto ma io diventerò un grande medico chiammi l'ambulanza va bene l'ambulanza no che stai a ordinare le pizza e voglio aiutare gli altri vuoi far riportare la caritas chiamiamo il 118 bell'idea non sarebbe una brutta vita a far male e il confronto con i miei fratelli ecora nera della famiglia allora sei una pecora nera tu sei una casta morta è un immaturo che non lavora e cambia ancora con la paghetta di mano è morto vostro padre una tragedia è un dramma è terribile ci salta il volo per le maldive ero andata sulla scogliera per buttarmi di sotto ma fra le rogge c'era un uomo che me l'ha impedito domenica ci sposiamo che hai detto è una specie di figlio dei fiori che si fa ancora le canne una canna ho pescato due pesci per volta ha fatto cannabis e come da tradizione il pranzo spetta ai parenti della sposa 37 mila euro solo al tonno quello passa una volta sola per i mari della sicilia ecco passo una lamborghini sto matrimonio non sa da io sono un signor professionista un mafioso c'era un matrimonio c'è uno sposo c'è un cadavere non ho avuto paura dei pirati di tuzzi posso avere paura di tre stronzi amore ma che ci fai lì stavo ammirando l'infinito quello di giacomo che parda ti ricordo tesori miei era papà che voleva dei figli perfetti a me bastava il miracolo di averli figli voi siete come siete o qua c'è sta una vecchia schedina detto calcio uno uno due uno uno questa non è una schedina questa è la tua pagiola dell'elementari azza perché se non gestivo nemmeno un pareggio